Salve a tutti e come previsto oggi c'è un emiciclo di natura strettamente piddina. Perché? Perché il Partito Democratico dopo mesi e mesi di assenza dalle scene politiche, diciamo dalle cronache quasi un desavare sidio, è tornato improvvisamente all'attenzione dell'opinione pubblica con l'iniziativa Nicola Zingaretti che si è svolta sabato e domenica a Roma, cosiddetta Piazza Grande. Come è andata? Beh, secondo me è andata benissimo, è stata una bella iniziativa, io non ho avuto la fortuna di esserci di persona ma l'ho seguita comunque in streaming, ho seguito molti interventi, devo dire che uno di quelli che mi è piaciuto di più è quello del presidente dell'ottavo municipio Amedeo Ciaccheri, il superotto, come era il suo slogan della campagna elettorale e devo dire che da Zingaretti si respira una volontà di ricominciare, si respira un entusiasmo, una passione che comunque dal Partito Democratico mancava da diverso tempo e che non può che far bene a quel soggetto. Che dire, era presente Matteo Richetti, non c'era Francesco Boccia per precedenti impegni ma c'era Paolo Gentiloni e Paolo Gentiloni è stato sicuramente protagonista, ha parlato in maniera molto accurata della situazione italiana ha detto che questo governo in quattro mesi ha causato soltanto danni e che oggi siamo più spaventati rispetto a quanto non fossimo ai tempi del suo governo, il che è verissimo, purtroppo bisogna ammettere che è verissimo e ha fatto riferimento alla realtà contingente di un partito che dice dopo sette mesi finalmente si degna anche di pensare al congresso dice in maniera felpata il conte Gentiloni Silveri non è prematuro parlare di congresso no, diciamo che il Partito Democratico si dovrebbe ricordare, si sarebbe dovuto ricordare purtroppo già in precedenza quello che fece, lo ricorda bene De Angelis in un pezzo su Luffington si sarebbe dovuto ricordare di quello che fece nel 94 Massimo D'Alema che in pochi mesi fece cadere il governo Berlusconi sfilando la Lega e anche Buttiglione, arrivando a un accordo anche con Buttiglione insomma ci fu una mossa piuttosto furba di Massimo D'Alema, segretario all'epoca del PDS ci fu una grande rivoluzione nei vertici di quel partito, ci fu il passaggio da Occhetto a D'Alema e cambiò in pratica la storia di questo paese perché poi tramite l'accordo con i popolari di Beniamino Andreatta ci fu in pratica la nascita dell'Ulivo guidato da Romano Prodi con l'esordio del febbraio del 95 dal teatro di Tricase e la vittoria un anno dopo all'elezione del 21 aprile del 1996 piccolo ripasso di vista che comunque serve più che mai al Partito Democratico di oggi se vuole risollevarsi e non a caso il fatto quotidiano come vedete dice molto chiaramente Zingaretti e Gentiloni, eccolo qua, Zingaretti e Gentiloni spingono Renzi fuori dal PD lui è pronto che è successo in pratica? allora, secondo questa corrente di pensiero poi c'è l'altra di cui parliamo fra poco secondo questa corrente di pensiero in pratica Renzi starebbe pensando di dar vita a dei comitati civici come spiega bene il fatto quotidiano dice l'ex presidente del consiglio si pone come padre nobile è vero l'idea dei democratici insiste per un congresso con l'obiettivo di spingere definitivamente l'altra ex premiera e margini intanto l'ex comitato amatore si prepara ai comitati civici che lancerà il prossimo weekend alla Leopolda e saranno la prova generale di un suo partito quindi secondo il fatto quotidiano la vera intenzione di Renzi non sarebbe quella di spingere l'ex ministro degli interni Marco Minniti come invece putizza per esempio Repubblica ma quella di mettersi in proprio come di fatto vorrebbe fare Carlo Calenda il quale continua a essere iscritto al PD a dirne peste e corna ora, io posso dirvi una cosa brutale? io spero di cuore che il fatto abbia ragione perché vedete, io non ho nulla contro il partito democratico il partito democratico è uscito da se stesso questo è il motivo per cui molti di noi non l'hanno potuto più votare né hanno potuto più militarvi non è che siamo noi ad essere usciti dal PD è il PD che è uscito da se stesso è il PD che era il partito dei ceti medi dei proletari, degli operai della piccola e media borghesia ed è diventato improvvisamente il partito di Casini il partito della Leopolda degli ex Cuffaro in Sicilia il partito di Briatore è diventato quel partito lì ma sono stati loro sono stati loro nessuno di noi ha chiesto di fare questo nessuno di noi ha chiesto al PD di varare l'Italicum di provare a distruggere la Costituzione di varare lo sblocco a Italia il Jobs Act, la buona scuola cioè i disastri di 4 anni di Renzi non gliel'ha chiesti nessuno nessun elettore aveva votato per queste schifezze infatti gli elettori semplicemente quando gli è stato detto voi avete votato per il Jobs Act hanno detto no molto semplicemente no noi non abbiamo dato il 40% nel 2014 al PD per andare a distruggere le Costituzioni gli avevano dato il 40% per provare a costruire un'Europa diversa cosa che non ha fatto peraltro il Partito Democratico come non l'ha fatto tutto al cosiddetto socialismo europeo che infatti è in ginocchio quindi se il Partito Democratico si derensizzasse e acquisisse un nuovo leadership sotto la guida di Nicola Zingaretti o chi per lui se il Partito Democratico riuscisse a rimettere in circolo idee, valori, proposte se il Partito Democratico recuperasse quella dialettica fra laici e cattolici fra un Del Rio un Righetti uno Zingaretti un Boccia e qualcuno di questi per esempio Righetti tanto per non fare nomi non dovesse seguire Renzi e sarebbe anche ora che non lo seguisse quindi sarebbe anche ora che ci fosse una cesura netta ebbè sarebbe un bene per tutti se Renzi e i suoi andassero a costruire il Partito Macronista da un'altra parte se Calenda finalmente decidesse di fare il trascinatore di popoli e di masse vediamo chi lo segue sarebbe bene per tutti sarebbe chiarezza perché non è che siamo noi ad essere usciti dal PD è il PD che è uscito da se stesso se il PD decidesse finalmente di rientrare in se stesso se il PD raccogliesse uno come Ciaccheri che ieri ha parlato di resistenza e non a caso è stato eletto nel municipio che in sé porta San Paolo non è un caso non è un caso è una continuità storica molto importante e da rilevare se il Partito Democratico diventasse il partito di Ilaria Cucchi per esempio se il Partito Democratico diventasse il partito di Mimmo Lucano veramente sono due nomi che mi permetto di segnalare e di consigliare di candidare capolista a Zingaretti se dovesse essere il prossimo segretario per davvero beh sarebbe un bene per tutta la collettività democratica sarebbe un bene per tutta la sinistra una riaggregazione in questo senso sarebbe un ritorno alla normalità io dubito che questo possa accadere specie se Renzi dovesse decidere di portare il PD allo sbando pur di salvare se stesso se dovesse nascere un partito renziano cioè una spaccatura del PD qualcuno di quelli che hanno votato Renzi pensando che fosse il padre dei popoli forse si dovrebbe porre qualche domanda magari qualcuno dovrebbe ammettere di aver leggermente sbagliato analisi tanto per dirne una così tanto tanto per non far nomi ma se succedesse questo sarebbe indubbiamente un grande passo avanti soprattutto in un momento storico in cui nonostante tutto il disastro di cui stiamo vedendo di cui stiamo parlando abbiamo pure però una giovane leader Catarina Schultze 33 anni artefice del successo dei Verdi all'amministrativo in Baviera e questa ragazza qui ne parla a stampa ecco Catarina Schultze che è una che dice per le donne voglio ministeri e non rose ieri si è votato in Germania in Baviera e si pensava che a FD il partito praticamente neonazista potesse sfondare oltre i limiti il partito neonazista è cresciuto ma non è andato oltre i limiti diciamo non ha trascimato più di quanto non temessimo e per fortuna ovviamente ribadisco la CSU è crollata ed è un bene perché la CSU è un partito retrivo e ultraconservatore che adesso guarda Curse e Orban quindi seccate un pochino è un bene è crollata l'Espede va benissimo perché l'Espede è un partito che non ha più un senso purtroppo non ha più un'identità quindi se in questo sfacello generale un partito verde ambientalista femminista forte autorevole viene su in questo disastro e prende quasi il 20% è solo una buonissima notizia soprattutto in un land catastroficamente terretrivo come la Baviera è una buonissima notizia per l'Europa quindi ieri in Baviera è andata molto molto meglio di quanto non ci aspettassimo il che dimostra anche una cosa e questo ha provato a dirlo anche Zingaretti ieri che sì è vero che siamo in un brutto momento è vero che gli anti-europeisti stanno caloppando è vero che c'è rabbia è vero che possono succedere tragedie tipo Trump o la Brexit ma è anche vero che prima di liberarsi dell'Europa molti cittadini ci pensano il punto è questo che decidono di rimanere in Europa e di guardarle ancora con ottimismo di darle ancora una possibilità soltanto se trovano qualcuno in grado di rappresentarla degnamente se questo accade l'Europa ha ancora un futuro se questo non dovesse accadere il prossimo 26 maggio sarà la Waterloo delle nostre speranze e questo Zingaretti ieri lo ha detto molto molto bene gliene va dato atto quindi bisogna costruire un'alternativa e bisogna pensare che oggi non è la domanda a mancare è l'offerta e infine concludo con ricordandovi la copertina dell'espresso che secondo me è meravigliosa è una vignetta di Altan la libertà di stampa è un lusso che non possiamo permettervi eccola qua la faccio rivedere la libertà di stampa è un lusso che non possiamo permettervi si vede con Salvini con in braccio il premier Conte che formula questa dichiarazione ovviamente è il genio di Altan sostenere l'espresso sostenere la libertà di informazione sostenere la democrazia sostenere la liga delle cooperative nel momento in cui il ministro il vice ministro crimi scusate il sottosegretario crimi il sottosegretario crimi vuole tagliare il fondo alle cooperative parlare come fa da Milano di un elogio dell'indipendenza ecco tutto questo significa guardare al futuro di questo paese ed è un futuro di cui abbiamo bisogno perché come diceva Winston Churchill la democrazia è un pessimo sistema salvo tutti quelli che abbiamo sperimentato in precedenza